Ben ritrovati amici rossoneri, un saluto a tutti, sono molto arrabbiato, seccato e quindi metto la maglietta del Milan oggi, perché sono contento, perché rappresenta ovviamente meglio di tutto e di tutti la nostra appartenenza, vi invito a lasciare un bel like qui sotto, iscrivervi, iscrivetevi numerosissimi ragazzi, mi raccomando iscrivete, fate iscrivetevi ai vostri amici che l'obiettivo è dei 100.000 iscritti per la nostra community, l'ho indossato anche perché oggi uno di voi a mezzanotte se la porta a casa, per partecipare al concorso gratuitamente basta scaricare gratuitamente qui sotto, da questo link l'app di numero 10, l'app più scaricata da tutti i milanisti, con tutte le notizie esclusive live di calciomercato, anche i nostri video, non quelli di youtube, scaricatele e scrivete qui il vostro nome, fatelo scaricare magari anche papà, fratello, sorella, avete più possibilità di vincere la maglietta, come questa personalizzabile con il giocatore che volete. Allora, devo dire che pensando all'ultima settimana, derby vinto benissimo, ieri vittoria con la Samp in 10 contro 11, risposte positive nelle pagelle di questa mattina, non ho dato un'insufficienza e non mi sono neanche avvicinato a nessuno con l'insufficienza, faccio un mia colpa, perché magari insomma posso anche aver sbagliato, detto che le pagelle sono molto soggettive, in tanti mi avete rimproverato il 6 a Calabria, evidentemente appunto non ho notato alcuni aspetti, o mi sono soffermato su alcuni aspetti, il fatto che fossero entrati qualche volta di troppo sulla destra, e magari riuscirò a rivedermi la partita, e probabilmente, ecco, sono stato un po' stretto, me l'avete scritto in tanti, quindi ci sta che abbia sbagliato in quel caso la valutazione, e condivido allora i vostri appunti, che verranno approfonditi. Quindi, detto questo, tutto bene, tutto benissimo, tanti ingredienti, rientro di Kier, Giroud impressionante, Pobega bene, De Katera secondo me è in crescita, ho letto anche qui qualcuno che ha visto una partita negativa, a me non sembra abbia fatto una partita negativa soprattutto al primo tempo, un buon impatto di Vranks all'entrata, insomma, diverse cose. Una cosa, però, ci ha rovinato un po' il risveglio oggi, l'andare a letto ieri, l'approcciare la prossima settimana, e magari anche la prossima partita sicuramente, cioè l'espulsione di Real, che ha rischiato di farci perdere punti ieri, fortunatamente siamo stati più bravi, e che ci ha, di fatto, tolto il giocatore più forte dalla prossima gara, perché è il giocatore più forte del Milan e del campionato. Un giocatore che io definisco top player, un giocatore che anche ieri, quando partiva solo a sinistra, ragazzi, non ce n'era, metteva una marcia o due in più rispetto alle altre, non lo tenevi, non lo tenevi. Di fatto, ieri aveva fatto quasi due assist, il primo, magari un po' inconsapevole, perché la palla gli scappa via, ma anche a De Ketlar c'era il suo sigillo, ecco. Quindi perdiamo un'arma importante. E certe cose, però, non le voglio sentire. Sono davvero seccato, e soprattutto, ieri, in presa diretta, il primo giallo Lea, ho detto, ma, è sbagliato, però, non ci avevo fatto molto caso, magari in maniera un po' superficiale, no, oggi faccio molto mia colpa, perché non pensavo che poi Lea avrebbe preso il secondo giallo. Certo, a rivedermi il primo giallo? Ragazzi, no, 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 il primo giallo non è mai giallo, in un mondo normale non è mai giallo, perché lui va per prendere posizione, lo prende magari un po' più in alto, sfortunato, quello stramazza al suolo, lì l'arbitro Fabri, purtroppo, ha una mania di protagonismo, ammonisco le A, ma non era da ammonire le A, quindi io l'avevo fatto passare un po', perché non pensavo mai che sarebbe arrivato il secondo giallo, ma quello non è mai giallo. Anche perché, anche perché, pochi minuti prima, forse un minuto o due minuti prima, in area Milan, Djuric smanaccia, ma non per prendere posizione in quel caso, forse c'è anche dell'altro, smanaccia Calabria in faccia, che rimane a terra, vi ricordate quando Calabria rimane a terra per un minuto e mezzo? Perché viene colpito in faccia, in quel caso l'episodio passa in cavalleria, credo che non abbia neanche fischiato fallo, ora, che cosa voglio dire? Che il primo fallo è fallo di Leao, ma non è mai giallo. Il secondo diventa un paradosso, perché è un tentativo così raffinato, ricercato, la rovesciata, la massima espressione del calcio, forse, tant'è che, in copertina, sulle figurine, finisce la rovesciata, che è il massimo, se un attaccante segna di rovesciata è meglio di quanto potesse fare, no? Quello diventa un gesto passibile di giallo e quindi poi di rosso. È un controsenso, lì però viene giudicata un po' l'imprudenza, in termini di regolamento forse ci può anche stare, ma se hai dato un giallo di quel tipo all'inizio, non dare un giallo lì. Cioè, alla fine, a conti fatti, ragazzi, Leao viene espulso e salta in Napoli per due interventi involontari in attacco. Soprattutto il primo è scandaloso, perché non deve essere mai dato il giallo. Vi ricordate Atebor contro proprio Leao con l'Atalanta? Intervento a piedi uniti sulla caviglia, gli può fare anche male, intervento killer? Giallo. Ora, ditemi voi, se Leao di ieri, con quei due interventi, può essere da rosso e Atebor da giallo? È un controsenso clamoroso. Alla faccia di chi? Qualcuno l'ha detto, e stanno già rosicando il rumore dei nemici, qualcuno ha detto che il Milan in questo inizio di campionato è già stato favorito. Ragazzi, ecco, andateci voi senza che vi mandiamo noi. In tutto questo, poi, Leao è furioso, scrive poi sul social contro tutto e contro tutti, perché si sente vittima di un'ingiustizia. Poteva stare un po' più attento? Forse c'era troppo traffico, troppa densità per fare una rovesciata? Forse sì. Ma l'espulsione è qualcosa di scandaloso. Ripeto, non l'avevo dato ieri peso al primo giallo, rivedendolo mi fa accapponare la pelle. E Giampaolo! Giampaolo, che è stato un tecnico anche del Milan, non è andata bene, io avevo anche un bellissimo rapporto con lui. Giampaolo, ma come fai a farti espellere e a presentarti in conferenza stampa e a dire che è stato un arbitraggio a senso unico? Come si fa quando hai fatto una partita, metà partita, per un rosso scandaloso in 11 contro 10? Quando poi è stato anche annullato un gol a De Ketlar per una partecipazione considerata attiva a De Giroud, che lì è molto borderline, ma nel dubbio lì ti è anche andata bene, no? E poi Villar, che è colui che prende di braccio il colpo di testa di Giroud. Ragazzi, lì è un gol tolto, perché con la palla colpita di testa da Giroud, poi ci danno rigore, finisce in rete. Allora, se tanto mi da tanto, lì dovevano dare il rosso, non a Leao. E come si fa a parlare di partita condizionata, arbitraggio a senso unico? Ma quando mai? Ma dove? Non ditemi che è fallo da rigore il contatto Kir con Sabiri, credo fosse. Ragazzi, quello è un calcio di rigore che in campo non si dà mai, perché in campo lì vede che Kir si disinteressa, si ferma, l'altro va apposta a due all'ora da impattare, ma non è calcio di rigore. Lo direi anche a parte invertita, sinceramente. Se ci avessero dato un rigore avrei detto, ma, un po' generoso. L'episodio eclatante è il rosso Leao. L'episodio che ci fa rimanere in dieci, ci fa rischiare di perdere punti e che comunque ci condiziona purtroppo il big match della prossima settimana. Ragazzi, andiamo a Milano-Napoli senza il nostro giocatore più forte, ma non perché si è fatto male come Osima è loro, perché ce l'hanno tolto per due interventi in attacco involontari, uno soprattutto scandaloso. Quindi sono molto seccato, poi siamo sempre stati l'anno scorso più forti delle assenze, quindi non facciamoci la testa, però dà fastidio, sono in ebollizione dentro, perché davvero è un episodio in cui l'arbitro Fabli ha, secondo me, clamorosamente sbagliato. Ho fatto il doppio episodio, l'insieme, soprattutto il primo nel secondo, poi è un paradosso, hai dato il primo a non dare il secondo, usa un po' di furbizia. Ma che ora facciano polemiche, Giampaolo e anche interisti, i giuventini, direi anche no, questa cosa mi fa molto arrabbiare, è assurdo, è scandaloso, ci fa capire questo una cosa ragazzi, guardiamoci negli occhi, facciamo paura, ci temono, abbiamo fatto un campionato fin qui senza sconfitte, abbiamo giocato meglio dell'Atalanta, Atteborg doveva essere espulso, abbiamo dominato contro l'Inter, abbiamo vinto ieri in 10 contro 11 per metà partita, tra l'altro subendo il pareggio e andando ancora in vantaggio, quindi una vittoria acquisita davvero in 10 contro 11, per questo dico, ci guardano così, come quelli che devono temere, e vanno a usare anche Mezzucci, in tutto questo, ripeto, il Mina ieri è stato penalizzato, non favorito, non facciamo passare un messaggio che non c'è, sono un po' seccato, sono molto arrabbiato ragazzi, per il tutto, detto che la vittoria è importantissima, cerchiamo di pensare alle cose buone, buonissime, una vittoria da grande, grandissima squadra, ditemi che cosa ne pensate, scaricate numerosissimi l'app di 10, in palio oggi una maglietta come questa, con il giocatore che preferite, Leao magari, non Fabri, iscrivetevi numerosi qui, attivate la campanella, ripeto poi, prima Giuri ci smanaccia di faccia Calabria, niente, dopo lo fa Leao a Monito, non va bene, sono molto, molto arrabbiato, perché non bisogna lasciare nulla al caso, bisogna curare i dettagli, i dettagli fanno la differenza, e questo è un dettaglio enorme, che speriamo possa non fare la differenza, nella gara di domenica contro il Napoli, forza Mina ragazzi, contro tutto e contro tutti, un abbraccio, Mina anche comunque furioso, Pioli l'ha fatto capire, il primo giallo è scandaloso, e anche Leao si sente vittima di un'ingiustizia, iscrivetevi numerosi qui, chi non si iscrive, ti fa la seconda squadra di Milano, ciao ragazzi, scaricate la BDDS, grazie,